Allora caro Lallino, ti voglio insegnare tante cose perché io sono andato a scuola tanti tanti anni e tu niente. Tenete! Che cos'è? Per te, per te e per te. Che buono, grazie. Mi ci metti una formica per favore? Ce l'ho già messa. Va bene. Allora Lallino, ti stavo spiegando che le stagioni sono otto. Allora, esiste l'inverno e l'estate e poi basta. No. Come no? Non è vero. Quante sono le stagioni? Dillo tu. Sono forse tre? No. No? Sono quattro. Quattro? Ma veramente sono quattro, è veramente. Allora quali? Dimmele, dimmele. Adesso non me ne ricordo. L'apri? Mavera. Poi? L'estate. Poi? Poi c'è l'autunno. E poi? L'inverno. E poi? Bassa. Eh. E poi ti insegnerò a contare. Come si conta fino a dieci? Così. No, così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bene, allora ti insegno la frutta e la verdura. Vediamo un po'. Allora, le carote sono frutta. Le carote sono verdura. Gli spaghetti sono verdura. No, gli spaghetti sono carboidrati. Carbo che? Che sono? Carboidrati. Mamma mia. Carboidrati. Il gelato è una verdura. Il gelato è... Che cos'è il gelato? È un do? Un dolce. Un domani. Un domani. Un domani. Non me lo ricordo. Un dolce. E poi? Io ho fatto dieci volte l'asilo. Quindi io sono... Sono stato a scuola tanto tempo. L'allù. Eh. Ma guarda che all'asilo neanche si impara a contare. Ma io so tutto. So contare fino a tre. Vuoi vedere? Vediamo. Uno, sette, nove. Hai visto? No, non hai usato il numero tre. Ma vabbè, non serve sempre. Si fa uno, due, tre. E poi? Io una volta ho contato fino a cento. E poi? Che cosa vi devo raccontare? Allora, so tutto. Allora, abbiamo detto i numeri, abbiamo detto la verdura, abbiamo detto la frutta, per esempio il cocomero. È una verdura? Il cocomero è una frutta. È un frutto? Sì. Ah. I pappagalli sono delle piante? No, i pappagalli sono degli animali. Ma ci sarai tu un animale? Perché vuoi essere una frutta? Una verdura? Una pianta? Io sono un pappagallo. Eh. Lallino, perché non parli più? Ti sei addormentato? Oii. Lallino. Niente, non è pronto per andare a scuola, Lallino. Funziona sempre. Si addormenta. Funziona sempre. Un bambino un po' distratto. Ecco fatto. Ciao. Scusate l'interruzione.